A proposito di impianti e universiati, già si parla di quale sarà la gestione per assicurarne il buon funzionamento e soprattutto la manutenzione. Oggi il presidente del tennis club Villari suggerisce di mantenere in vita l'AURU a cui dare una sorta di supervisione della gestione degli impianti. Impensabile, ipotesi assolutamente impraticabile e irrealizzabile. Noi stiamo già lavorando perché la città attraverso il comune, coinvolgendo tutti, associazioni, federazioni, scuole, cittadini, gli impianti possono essere fruibili nel miglior modo possibile da subito. Io dico addirittura H24. È un'opportunità talmente clamorosa che tutto questo è a disposizione della città e la città che ha vinto le universiati e la città saprà governare anche tutto questo. E siamo talmente lanciati che vi faccio un esempio. La mostra oltremare, piscine e tuffi, che potevano essere chiusi per qualche mese in attesa del bando. Noi abbiamo chiesto, e la mostra oltremare ha fatto un lavoro enorme nella fase transitoria, di farne una gestione interna. Il 24 di luglio inaugureremo la piscina della mostra oltremare. Così stiamo già lavorando su tutti gli altri impianti. Noi manterremo la cabina di regia delle universiati del comune di Napoli, manteremo una struttura di coordinamento ai massimi livelli. Abbiamo implementato gli uffici, ma l'ARU la ringraziamo per il lavoro svolto per le universiati. La città di Napoli non ha bisogno dell'ARU. Grazie.